non finirò mai di dirlo e di ripeterlo purtroppo anche io come molti altri quando ho iniziato a suonare il pianoforte del metronomo non ne volevo sapere mi ricordo che mi dava una sensazione veramente fastidiosa mi sentivo costretto in qualche modo ad ascoltarlo mi dava fastidio questo continuo rumore di sottofondo però purtroppo è indispensabile e non devi vedere il metronomo come una cosa fastidiosa comincia già a vederlo come una cosa che ti aiuta se io adesso prendessi un foglio bianco e ti chiedessi di scrivermi una lettera stando dritto perfettamente dritto creando delle linee perfette dritte delle righe drittissime credo che sarai capace di farlo ma comunque tenderai ad andare un po verso l'alto poi a correggerti andare verso il basso e così via se invece ti do un foglio già con le righe grigie segnate come quelli che utilizziamo a scuola andare dritto per te non sarà un problema le righe quindi per te sono un aiuto guarda il metronomo proprio come vedresti le righe o i quadretti di un foglio ti aiuterà ad andare dritto quindi non odiarlo anzi accettalo nella tua cerchia di amici accettagli l'amicizia su facebook viva il metronomo cerca di apprezzarlo fin da subito di considerarlo un compagno di studio e non qualcosa che ti frena mi rendo conto che possa essere fastidioso e che a molte persone non piaccia studiare col metronomo questo perché ti costringe a vedere i tuoi errori se tu usi il metronomo e suoni un brano si nota subito se hai suonato una nota esattamente sul battito o se l'hai suonata un po prima o un po dopo se invece suoni una canzone senza metronomo questi difetti questi errori non sono così evidenti ti mostro ora voglio suonare una nota per ogni battito devo fare in modo che la mia nota sia esattamente insieme al metronomo un pianista alle prime armi senza metronomo suonerebbe così senti che il battito del metronomo è o prima o dopo la mia nota certo ci possono essere delle canzoni che richiedono di suonare esattamente in questo modo però inizialmente devi essere in grado di suonare una nota insieme al battito del metronomo quindi se vuoi esercitarti a tenere il ritmo e il tempo avvia il metronomo e prova a suonare un solo tasto insieme finché non vedi che i suoni combaciano per assurdo il metronomo deve essere coperto dalla tua nota e per fare questo la tua nota deve essere precisa sopra il metronomo né prima né dopo